Inizia un nuovo percorso qui in ASL4, cosa si aspetta? Sapevo che era un servizio funzionante, con delle buone pratiche, operatori motivati, una realtà veramente positiva. Ciò non toglie che mi aspetto di poter vedere eventuali aspetti suscettibili di miglioramento e di lavorarci insieme ai colleghi. La salute mentale è stata una delle cose un pochino più toccate da questo periodo delle restrizioni. Come pensa che si potrà affrontare questo periodo di ripresa in cui magari molte persone si sono trovate in difficoltà? Abbiamo potuto vedere che c'è stata una sofferenza prevalentemente silenziosa. In questo periodo è come se certe patologie fossero passate in secondo piano. Adesso ci sono già i primi segni, invece di un ritorno della domanda, ci sono diverse aree su cui intervenire. Una ripresa molto forte dei disturbi alimentari, c'è una sofferenza che sta venendo fuori in maniera prepotente. È una bellissima sfida prendere la direzione di una cardiologia con una grande tradizione, cercare sicuramente di mantenere l'elevato standard qualitativo delle prestazioni sanitarie fino ad adesso erogate ed eventualmente anche implementarle. Andiamo verso la fine dell'emergenza sanitaria, ci sarà da dipendere anche molto dall'arretrato. Come pensate di solvere questa cosa? Dovremo vedere quali sono le liste d'attesa per le prestazioni cardiologiche. Mi dicono che non sono troppo indietro. Sicuramente c'è stata un'attività per tutto il periodo anche della pandemia rivolta nei confronti delle prestazioni più urgenti e sicuramente potremo ovviamente migliorare quanto offerto all'utenza fino a questo momento, ovviamente finita l'emergenza sanitaria.